Ciao, sono Bianca, mi chiedevo come mai la Svizzera è un paese così ricco? Penso che ci siano varie ragioni per questo. Una ragione è sicuramente la stabilità economica e politica che abbiamo da tantissimi anni. Poi delle politiche economiche, che anche quelle, proseguiamo con queste politiche da tanti anni, che ci danno le condizioni quadro per le nostre imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, che possano fiorire nella nostra economia. E poi penso che è molto importante sia il nostro sistema di educazione, soprattutto la parte dell'educazione duale, dunque con gli apprendisti, che ci ha aiutato, soprattutto negli anni della crisi finanziaria, a mantenere un livello di disoccupazione anche dei giovani molto basso se lo paragoniamo con i nostri paesi vicini.